Benvenuti all'Istituto Italiano di Design e al Radio Design, io sono Elisabetta Rietti e qui con me c'è Nicola Palumbo e non sono capace a fare le intro, per caso non si fosse capito. Perché sei andata benissimo. Spiega, che programma è questo? Come nasce l'idea, la tua idea incredibile di creare questo progetto? Allora, qua siamo a Brand Pit, siamo nel mondo Brand Pit, il mondo Brand Pit in cui si fanno delle figate incredibili come parlare dei brand. Parliamo delle curiosità dei brand, dei loghi più famosi, come sono nati, la loro evoluzione e appunto anche un po' di gossip, un po' di cose che piacciono. Gossip, gossip. Oggi quale brand affrontiamo? Oggi affrontiamo un mostro. Un mostro? Un mostro, ovvero McDonald's. Che voi tutti conoscete, immagino. Ciccioni. Ciccioni. Benissimo. Cominciamo a infamare i followers. Allora, perché lo conoscete? Soprattutto io perché ieri mi sono cibato da McDonald's. Sono sponsorizzato ovviamente questo podcast da McDonald's. Sicuramente, è ovvio. Ci hanno pagato per farlo. Perché è interessante l'esperienza di McDonald's? Cercavamo dei loghi figli e alla fine siamo prodotti su McDonald's. Mi dispiace perché avrei voluto parlare dell'IKEA che è il primo posto più bello del mondo. Cioè la gente dice muraglia cinese, cascata del Niagara, IKEA. Ragazzi, è bellissima l'IKEA. Però il logo facca perché non c'è niente e quindi... Stai attento perché ci sta guardando a Caffè Design in diretto su Instagram. Oh mio Dio, no! Allora, parliamo di McDonald's e spieghiamo brevemente la storia prima di affrontare quello che riguarda prettamente il logo con Elisabetta. Allora, spiego un po' le origini di McDonald's. Voi tutti avete visto il film The Founder, tranne Elisabetta ovviamente. Doveva vederlo, poi non se l'è vista. In questo film, bellissimo, viene affrontato proprio, viene raccontato in modo un po' anche romanzato le origini di questo brand che nasce nel 1937 con questi due fratelli che si chiamano Dick Mac McDonald. Quello che si chiama Mac McDonald fa anche abbastanza ridere come cosa. Mi dispiace. Andavo a scuola, ciao Mac McDonald. Già lì, prese per il culo. Più spottuto di tutti. Praticamente aprono questo primo chiosco, diciamo, ad Arcadia in California, un chiosco piccolino di hot dog e il primo ristorante viene chiamato McDonald's Barbecue. Quindi viene aperto poi successivamente nel 40 San Bernardino e si fermano lì. Poi cosa succede a un certo punto? Che un certo Ray Kroc, che vende frullatori, frullatori a più lame, scopre che questi personaggioni, questi Dick e Mac, fanno un sacco di frullati. Quindi dice, ma com'è sta storia? Vado a vedere un attimo come mai questi qui vendono più degli altri in tutta l'America. Finisce lì e scopre che questi due fratelli hanno messo in piedi un bel sistema, una bella organizzazione che permette quindi un'alta efficienza, la possibilità di produrre hot dog in serie con grande velocità e anche quindi frullate. Quindi Ray Kroc va dai due fratelli e dice, guarda, mettiamoci in società perché... Caffè Design ride, vi osserviamo. Attenzione. Mi rendete tutto più difficile così. Vabbè, Elisabetta è una vostra fan, dai, diciamolo, dai, Elisabetta mi segue. Quindi che cosa succede? Che Ray Kroc propone appunto un accordo per creare un franchising. Allora di franchising non è che c'erano così tanti, quindi sono anche delle prime sperimentazioni di franchising. Ray Kroc la vede giusta, per andare molto velocemente, perché se no la possiamo allungare anche troppo questa storia. Ray Kroc cosa fa? Comincia a creare un sistema di franchising, quindi permette ad altre persone di diventare franchiser e quindi di aprire anche a loro volta nuovi punti vendita che fanno sempre capo ovviamente alla casa madre di McDonald. Addirittura poi, anche nel film si vede questa cosa bellissima, Ray Kroc fa le scarpe ai due fratelli perché a un certo punto McDonald diventa una vera e propria azienda immobiliare, nel senso che cominciano a comprare proprio i terreni dove si trovano i negozi. Ok, poi questo magari lo spieghiamo anche più avanti e addirittura Ray Kroc con un bel giochino acquista il terreno dove è stato creato il primo punto vendita di McDonald e costringe i due fratelli con un accordo milionario di vendergli il primo punto vendita e buttarli fuori dalla società. Boia, è un disastro, è veramente un disastro. Visto che abbiamo parlato dei primi anni raccontiamo anche come nasce il primo luogo di McDonald, Elisabetta. Facciamolo, facciamolo. Una cosa anche curiosa del, appunto, questo primo ristorante barbecue del McDonald è che non vendevano le patatine fritte, cioè delusione più totale. Tu vai lì, ti portano solo l'hamburgo, io mi sarei alzata e me ne sarei andata, già che è in grasso lo faccio bene. Bene, loro non portavano le patatine fritte e parlerei per una puntata solo di questo scempio, però andiamo avanti. Ebbene, c'era questa cosa, appunto, del barbecue, eccetera, e loro si erano scelti una mascotte, una mascotte che si chiama Speedy, quindi c'è questo chef ammiccante che va così a questo hamburger, bellissimo. E quindi all'inizio, appunto, era un logo quasi illustrato, ecco, in bianco e nero, che si discosta molto da quello che è il logo attuale che tutti conosciamo, insomma, logo, logo, che ormai è diventato un simbolo. Che ridere, ragazzi, è più conosciuto del simbolo della croce cristiana e questo mi ha fatto molto ridere perché, giustamente, da una parte però fa ridere. Ebbene, c'è gente che prega davanti ai due archi, si confonde, dice, questa è la chiesa, no. Ebbene, allora, a proposito di questi due archi, bisogna farci anche un discorsetto. Parliamone, parliamone. Allora, questi due archi, in realtà, sono, appunto, nascono da uno spunto di uno schizzo che aveva fatto Richard McDonald su un foglio. Cioè, lui è andato lì da grafico, ma che roba che ho fatto, voilà, fatto il logo. Il classicone, insomma. Bravo. Però, in realtà, questo schizzo, inizialmente, non è stato lo spunto per il logo, ma proprio per la struttura architettonica che ha riportato questi due archi, che poi sono diventati, appunto, iconici. Cioè, tu vedevi questi due archi e sapevi che quello era, appunto, il McDonald. Il logo, poi, è stato disegnato da un grafico? No. Ovvio che no. No, perché in tutte queste storie non c'è un grafico che disegna i loghi incredibili. È stato disegnato da un architetto che si chiama Jim Schindler. Schindler, ok, di origine tedesca. Ebbene, Jim Schindler ha fatto questa figata di logo, quindi con questi due archi. Logo che poi, appunto, negli anni settanta è diventato un'icona. Cioè, tu lo vedi, sai subito che cos'è. Tant'è che va, appunto, molto di più questo simbolo che non, appunto, la forma estesa scritta McDonald. È molto più riconoscibile solo il simbolo con, appunto, questi due archi. Questa è una cosa interessante perché siamo arrivati, quindi, agli anni settanta e possiamo dire che già in questi pochissimi decenni, quindi dal 37 fino al 67, McDonald si espande nel Nord America, negli Stati Uniti e anche in Canada. Però è la prima volta che il primo ristorante apre fuori dagli Stati Uniti, è proprio il 71, il primo anno in cui arriva a Prode in Europa, nei Paesi Bassi, a Zandam, una piccola città nei pressi di Amsterdam. Quindi non solo canne, ma anche hamburger ad Amsterdam. È proprio il ritratto della salute. Sì, esatto, è proprio una combo pazzesca. Andiamo avanti con l'evoluzione del logo. Certamente, allora, ragazzi, poi approdiamo nel 2003. Nel 2003 succede una cosa incredibile per il brand Coca-Cola. Viene, appunto, introdotto il motto ufficiale che noi tutti conosciamo e che ora Nicola citerà. Aspetta, attenzione. I'm loving it. Momento di panico. Mi stavi fregando. Ebbene, questo motto che inizialmente era in tedesco, quindi puoi citarlo. Ich liebe es. Esatto. Mi hai tolto le parole di bocca. Ebbene, inizialmente era in tedesco, poi è stato, appunto, tramutato in inglese e da lì è, appunto, il simbolo è abbinato a questo motto ed è McDonald's praticamente. Ma non ho capito perché era in tedesco, la follia. Non lo so, c'è scritto così. Ma questa è una cosa veramente strana. Per continuare sul discorso di McDonald's, ovviamente è una storia gigantesca, quindi siamo quasi a un centinaio, no, 80 anni di storia. Possiamo dire anche che nel 2006 il brand subisce un piccolo arresto, non arresto, se non si portano in carcere, un arresto, una battuta di arresto perché quel tipo di modello, anche di cibo junk food, come viene definito, tipo cibo spazzatura, noi non siamo soltanto, se ci volete assumere a McDonald's potete farlo tranquillamente. Dipende per far cosa, poi? Per fare i panini, ovviamente. Esatto, la nostra ambizione. Che succede? Nel 2006 addirittura c'è una grandissima crisi e McDonald's comincia anche a chiudere alcuni punti vendita, soprattutto in Gran Bretagna. Ok, e poi arriva il 2008, tragedia, l'Islanda, se ne vi ricordate, tu no perché sei troppo giovane. Addirittura fallisce anche, la moneta viene super svalutata, quindi McDonald's esce fuori dall'Islanda, quindi abbandona un paese addirittura. Molta giusti. E poi un'altra battuta dal resto, perché lo sapete tutti, McDonald's ha avuto sempre grandissimi accordi con altri brand fortissimi, legati ai bambini, come appunto la Walt Disney, che, attenzione, spoiler, sarà una puntata. Sì, sarà una puntata quando scenderà mia sorella a novembre, quindi mi raccomando, seguiteci anche in quell'occasione. Mia sorella che saluto insieme a mia nonna e a tutta la famiglia. Inizio a fatti i saluti, arriviamo al 2006, quando Walt Disney non rinnova l'accordo che ha con McDonald's, non so se ti ricordi, ma vendevano un sacco di cazzatine nei Happy Meal, eccetera, un accordo gigantesco di circa un miliardo di dollari, col quale McDonald's sfruttava l'immagine di questi personaggi Walt Disney. Disney a un certo punto... McDisney. McDisney abbonda, abbandona... Benissimo, l'accordo. E questa è, diciamo, una bella mazzata per McDonald's, perché perdere un accordo con Disney significa molto nella propria strategia di brand. E altra cosa interessante, nel 2012, quindi arriviamo proprio nei tempi moderni, modernissimi, apre il primo fast food vegetariano in India, perché, come sapete, in India le mucche sono sacre e non si magnano. Giusto, da Valdostana concordo. I becchi. No, i becchi sono le carri. Ecco, nel senso. Invece, qual è l'evoluzione finale, poi, del logo? Allora, allora, beh, una cosa interessante, più che, appunto, per quanto riguarda l'evoluzione, appunto, parlare di questi archi, perché è bello, cioè, è importante fare un focus su questa cosa. Allora, gli archi si dice che rappresentino l'eleganza, il dominio e la professionalità. Così si dice, appunto. Ma, soprattutto, questa M pare che ricordi, ragazzi, il seno materno. E qua si va un po' verso lo zozzo. Tant'è, tant'è che nel 1960 i fratelli McDonald's, sai che hanno detto? Bobasht. Bobasht. Non lo aspettavo. Hanno detto, mi sono rotto gli coglioni di questo logo, voglio cambiarlo. Ma, ma, è intervenuto un tale Louis Cheskin, che noi tutti conosciamo. Certo, è famoso. Grandissimo psicologo e designer. E gli ha detto, stai fermo lì, state fermo lì, perché erano due. No, ormai era Ray Croc, era da solo, erano già andati via gli zii Tom. Negli anni 60? Sì, erano già spariti. Beh, ha fermato qualcuno. Ha fermato Ray Croc, il boss. Ebbene, ha detto, non cambiamo assolutamente logo, perché, appunto, ha un effetto freudiano, questo seno, questa M, perché rimanda, appunto, all'idea di seni materni e nutrienti. Quindi, inconsciamente, il cliente è portato ad andare da McDonald's, anche per queste dettone incredibili. Quindi, sorpresa delle sorprese, ora il logo della McDonald's non è più lo stesso. Ecco fatto. E allora, poi, un'altra cosa interessante che si può dire, sono i colori, ragazzi. Perché i colori sono importanti. E anche in questo caso sono molto importanti perché è una bicromia, il giallo e il rosso, che rimanda, appunto, allo stimolo dell'appetito. Se noi abbiniamo il giallo e il rosso, comunque, guardandoli, ci viene voglia di mangiare, in sostanza. Questo è quanto. Dunque, e beh, poi, appunto, andando nello specifico, il giallo, che rimanda sempre, ragazzi, ormai, lo sappiamo, alla quarta puntata, alla vitalità, eccetera. Alla gioia e il rosso, all'energia e alla potenza. Power, women, power, women. C'entra la mazza, ma l'ho detto lo stesso. Bene, questo è molto interessante. Concludiamo con una piccola analisi che riguarda… Stiamo concludendo? No, hai ancora altro da dire, no? Sì, ok. Quindi, dopo i colori, ti dico semplicemente che nella strategia di marketing di McDonald's ci sono diversi elementi che hanno fatto il suo successo, che sono il rapporto tra, appunto, il management e i franchisee, che sarebbero quelli che poi, diciamo, fanno una richiesta a McDonald's per aprire un punto vendita. Ci arrivano migliaia di domande, ma McDonald's ormai ne accetta solo determinate, quindi va a vedere se hai coperto, se hai i soldi per poter aprire il punto vendita. Un sistema standardizzato, penso che voi lo sappiate tutti, ma c'è un mega manuale dove viene indicato come succede nei franchising, ma loro sono stati i primi poi a sviluppare questo modello. C'è un manuale di produzione, quindi, che ne so, c'è scritto anche che dimensioni deve avere l'hamburger, quanto deve pesare, quindi tutto super indicato nel processo produttivo. Quindi non si può sbagliare questo perché, per mantenere l'eccellenza, tra virgolette, perché poi tantissimi pensano che non sia un prodotto eccellenza, però è un prodotto standardizzato e l'hamburger che trovi negli Stati Uniti lo trovi pure in India, è lo stesso. E questa è la grande forza del franchising, la grande forza di McDonald's. Poi un controllo spasmodico per i numeri. Nel film, lo vedrete, Ray Kroc è in fissa con i numeri, forecast, quindi previsioni di vendita, tutto è votato all'efficienza. Procediamo, cosa volevi dire? Procediamo? No, ancora un paio di curiosità che fanno molto ridere, a mio avviso. Allora, la prima, che è una notizia sconvolgente, che ci è stata data, tra l'altro, il primo anno di studi da Floriana Pucci. Che saluto! La migliore prof del mondo! E praticamente ci ha detto che... Che c'è un fotografo che ci saluta! Ok, ti ho detto che fa! Allora, praticamente sconvolgente perché in tutti i McDonald's in cui andiamo, che sia qua a Perugia, che sia in Valle d'Aosta o che sia dall'altra parte del mondo, c'è sempre lo stesso odore all'interno appunto dei punti McDonald's, perché c'è un deodorante che inseriscono nell'impianto di aereazione che fa tutti gli odori. Guarda, tu entri e è sempre lo stesso odore, che poi fa anche un po' schifo. Però in realtà ha il suo senso, ragazzi, ha il suo senso. Quindi notizia sconvolgente. E questo fidelizza, fidelizza. Fidelizza, caspita se fidelizza. Un'altra tematica estremamente figa, un'altra particolarità che forse non abbiamo detto, è che McDonald's è riuscita in pochissimo tempo, riuscì in pochissimo tempo già negli anni 70 a raggiungere la stessa notorietà di Coca-Cola. E questo perché McDonald's ha insegnato a tantissimi come fare marketing e comunicazione, quindi tantissime campagne, soprattutto la più grande strategia è stata legata da sempre ai bambini. Giusto, abbiamo questo personaggio che è il, come si chiama, il clown. Il clown. Tu quando eri bambina guardavi il clown e ti stava simpatico? Ma sì, ci facevo le foto, mi ci sedevo in braccio, era lì sulla sua panchina così bello scialato, che sorrideva. Quante volte hai detto ai tuoi, andiamo da McDonald's perché c'è l'Happy Meal o c'è il… Ovviamente, ma io, ragazzi, l'Happy Meal io lo prendo ancora adesso, cioè, è bellissimo, ma certo. Ecco, vedete, funziona. La strategia è prendere il cliente quando ha pochissimi anni di vita, quindi, che ne so, 5-6 anni, fidelizzare appunto il cliente bambino con tutta una serie di strategie che abbiamo anche accennato prima, quindi l'accordo con la Disney va in quella direzione, il fatto di poter trovare nell'Happy Meal i personaggi della Disney che comunque hanno un target che è molto legato appunto all'infanzia, ai bambini, e poi il fatto di poter strumentalizzare proprio il bambino perché il bambino va dai genitori e dice portami al McDonald's, quindi tu, agganciando il bambino, riesci a portare una famiglia intera al McDonald's. Genitori distrutti che non avevano per niente voglia, però... Che pagano il cash per niente, perché poi alla fine magni roba che alla fine potresti trovare da qualche altra parte, forse anche a meno, diciamoci la verità. No, beh, a meno no. Beh, anche a meno, dai. Boh, a dove? Beh, se vai al testone, spendi 5 euro e mangi di più probabilmente. Spendi 9 euro per un hamburger e delle patatine e una Coca-Cola. Quello che hai speso tu ieri. Esattamente. Mi dispiace. Bene, ci diamo con questa nota di colore. Abbiamo qualche altra curiosità stramba dal mondo McDonald's. Due. Due, vai. Allora, la prima, ridere. Praticamente, quando hanno aperto il McDrive in Cina, quest'idea del McDrive non è stata esattamente capita. Tant'è che la gente andava lì, comprava le robe dalla macchina, poi parcheggiava e andava a consumare dentro al ristorante. Una cosa che avrei potuto tranquillamente fare anch'io, però è piuttosto simpatica. E poi, un'altra cosa che fa ridere è che a Sydney, in un punto a punto McDonald's, cosa hanno fatto? La notte c'erano sempre questi adolescenti che rompevano i coglioni. Allora, cosa hanno fatto? Hanno trasmesso della musica classica per tutta la notte per far allontanare gli adolescenti. McDonald's. Esatto. Questa è la grande strategia. Dal punto McDonald's, esatto. Penso abbia funzionato, siccome è stata citata, quindi. Bene, allora, la prossima estate, sventuratamente finirò al mare, come non succede mai ormai da due anni, piazzerò delle casse a palla con la musica classica. Esatto. Così allontano tutte le famiglie. Il risultato saranno bambini che piangono. Pruttissimo. Bene, è stato molto interessante. Abbiamo avuto anche i nostri competitor di Caffè Design che ci ascoltavano. vi ruberemo subito molto presto la posizione in cima a Springer. No, devo dire no. Accadrà prima o poi. È stato molto bello. Quindi nella prossima puntata non si sa di cosa parleremo. Ovvio che no. Presumibilmente la prossima settimana o se vuoi anche domani, questo weekend, scegli tu. Ok. Forse si parlerà di Google, ragazzi, ma non si sa ancora. Voci di corridoio dicono che, ma io non lo so. Spoiler dicono questo. Esatto. Bene, è stato fantastico. È stato un sogno. È stato bellissimo. E ci sentiamo. Fai il close up. Chiudi tu, vai. Dici dove ci possono seguire, vai. Potete seguirci su Springer, su Spotify, per strada, un po' ovunque, ragazzi. Anche iTunes. Anche iTunes, ovviamente. E niente, io sono Elisabetta Arrieti e questo è Nicola Palumbo e vi auguriamo una splendida serata. Ciao. Ciao. Ciao.